ultime notizie l'incredibile aumento ormai a dismisura dei terrapiattisti quelli che hanno capito l'inganno più grande della storia insieme a tutte le truffe anche psicologiche diffuse dai news mondiali i terrapiattisti coloro che hanno preso coscienza del pericoloso gioco dei politici internazionali con l'appoggio dei media sanno che è stato innescato il grande show della distruzione della iss la farsa non poteva più andare avanti e i leader tutti insieme e tutti d'accordo hanno deciso di mettere in scena il viaggio volevo dire the final voyage il volo finale vedremo distruggersi nel cielo qualcosa che raffigura la iss che non c'è e da qualche parte faranno addirittura cadere dei frammenti metallici fumanti in modo che le amebe credano anche a questa ultima narrativa la cristoforetti la signora dalla frangetta che da parecchio tempo soffre di depressione con attacchi di panico potrà finalmente smettere di andare in giro raccontare menzogne e potrà andare in pensione sotto altre identità ma ahi noi non troverà la pace interiore naturalmente la programmazione verrà inscenata in diretta e vi terrà ancora una volta incollati davanti al tempestivo baucometro che non smetterà di iniettarvi idee e pensieri che non sono vostri pur di mantenervi prede sotto il dominio dei prepotenti turn off all devices as long as you can spegnete tutti i vostri device fintanto siete in grado di farlo